Ciao tifosi del Napoli! Ecco un'altra edizione del nostro notiziario sportivo. Oggi abbiamo notizie calde che possono avere un impatto diretto sul futuro del club. Secondo il quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha deciso di non acquistare il centrocampista francese Tanguindonbele. In prestito dal Tottenham, il giocatore non è riuscito a convincere appieno la dirigenza del club partenopeo e la sua avventura con la maglia azzurra si conclude a giugno. In una recente intervista a Sofut, Ndombele ha parlato del suo futuro incerto e della possibilità di tornare. Al Tottenham non gli dispiace essere prestato di nuovo, ma ha anche affermato che a volte vede i giocatori trattati più come beni che come persone. E tu, tifoso napoletano, cosa ne pensi della decisione del club di non acquistare Ndombele? Pensi che avrebbe potuto fare meglio? Quale sarebbe la tua opzione per il centrocampo del Napoli la prossima stagione? Lascia il tuo commento qui sotto e interagiamo sull'argomento. È tutto gente. Restate sintonizzati per le prossime notizie sul Napoli e fino alla prossima edizione del nostro programma. E ora, tifosi, una notizia scottante. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe molto vicino all'ingaggio del trequartista argentino Ciaggio Almada, 21 anni, dall'Atlanta United. Pensi che sarebbe una buona opzione per rafforzare il Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti. Forza Napoli sempre! S intrave rushare! Ora, torna ti alpare! Trataik